un saluto a tutti oggi io sono con mattia mattia ha poco più di dieci anni e proviamo a inserirlo per la prima volta con il mio pastore tedesco combo d'accordo loro si sono mai visti e quindi spiegherò a mattia come avvicinarsi ad un cane e come interagire vediamo che cosa riusciremo a ottenere a fine di queste prove allora partiamo nell'insegnare mattia come ci si avvicina ad un cane quindi prima regola matti qual è quello di chiedere se il cane bravissimo quindi supponiamo noi ci stiamo incontrando per caso giusto ok tutti avvicini ritorno indietro parti si il cane bravo quindi ora bravo matti ok non aver paura lascia la mano tranquillamente ricordati il cane l'annusare leccare fa parte del suo mezzo di comunicazione d'accordo è un cane bravissimo quindi poi tranquillamente lasciargli la mano no a disposizione il cane ti deve adorare d'accordo ok e questa è la prima fase vieni vicino a me ora facciamo due passi tieni il minzaglio vieni aspetta un secondo quando il cane fa dei bisognini poi lo chiami per nome combo si chiama così vieni fai due passi verso di me combo così benissimo ok tranquillo ma fermati bene ora matti di al cane interesco gli dici la deciso deciso la si accompagna un po il vintaglio verso il basso il Adesso, poi cosa devi fare? Una carezza lenta, così, bene, dagli un premietto e adesso, no, non devi aver paura, Matti, avvicina la mano al muso, tranquillamente, ok? Ti piacciono i cani? Sì. Ecco, allora devi imparare velocemente come interagire con loro. Ora, carezza, su, dai, su, riprova, Matti, girati sempre verso la camera, tieni questo, degli schiz, schiz, poi, laz, accompagna, bravo, Matti, dagli il premio, perfetto, carezza lenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.